Presso il Tribunale di Torino, la città metropolitana, in collaborazione col Tribunale, ha aperto questo sportello informativo proprio per i genitori che vivono separazioni conflittuali. Mi diceva poco fa che sarebbe importante estendere l'esperimento in tutto il Piemonte. Io penso che questo sportello, gestito da personale con delle competenze importanti, perché è una vostra mediatrice familiare che gestisce questa attività in collaborazione con l'URP, con l'ufficio di relazioni col pubblico. Uno sportello che va detto, fortemente voluto dal suo Presidente, del nostro Tribunale, perché, come dicevo all'inizio, c'è un gran bisogno di operare su questa fascia di problematica. È uno sportello che, a mio giudizio, in collaborazione, centri per le famiglie, enti gestori dei servizi sociali e tribunali ordinari dovrebbero potersi aprire presso l'URP di ogni tribunale ordinario per dare quel sostegno di informazione precisa, mirata, puntuale, alle coppie che si separano, che accedono all'URP dei tribunali, sia in copia sia separatamente, per avere contezza del molto in fondo che c'è. Per esempio, i gruppi di parola sono una risorsa straordinaria per i figli, perché in quella situazione possono finalmente, in modo libero, parlare dell'esperienza che stanno vivendo.